Sono 66, pari allo 0,1% della quota nazionale, le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute dal Molise all'INA e le rese note nell'ottavo report nazionale. Il periodo di riferimento è gennaio-agosto 2020. Si tratta prevalentemente di personale sanitario. Nell'analisi delle professioni svolte, infatti, il report evidenzia che tra i tecnici della salute si tratta esclusivamente di infermieri. Tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, l'89% è rappresentato da operatori sociosanitari. Tra gli impiegati alla segreteria e agli affari generali sono tutti addetti amministrativi. Tra i direttori, dirigenti ed equiparati nell'amministrazione pubblica, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca, il 66% ricopre il ruolo di dirigenti sanitari. Per quanto riguarda le ricadute sulle attività economiche, registrare la totalità delle denunce e il comparto gestione, industrie e servizi. Un terzo riguarda gli organismi preposti alla sanità, come le ASL. Il 21% riguarda il settore della sanità e assistenza sociale. Per i due terzi, i servizi di assistenza sociale e residenziale. E per un terzo, l'assistenza sanitaria. Le professionalità più colpite sono quelle qualificate nei servizi personali. Il settore noleggio e servizi alle imprese registra il 16,3% delle denunce codificate. In questo caso si tratta di addetti alle pulizie, alle attività personali e sanitarie. Il settore trasporto e magazzinaggio registra l'11,6% delle denunce. Nell'analisi complessiva sono le donne ad essere esposte maggiormente al rischio contagio. Si tratta del 63,8% del totale. La classe di età più colpita, quella tra i 50 e i 64 anni, rappresenta il 53,2% dei casi. E la provincia di Sernia, quella con la più alta incidenza monisana, con il 59,1% delle denunce pervenute all'Inail.